buonasera e benvenuti all'ultima edizione del 2022 del notiziario di prealpina.it oggi venerdì 30 dicembre i primi risultati usciti dal laboratorio varesino della sst sette laghi sui tamponi di santo stefano da cui il risultato che quasi la metà dei passeggeri atterrati a malpensa con due voli provenienti da pechino erano positivi al coronavirus hanno confermato che si tratta di sotto varianti di omicron già presenti in italia guido bertolaso assessore lombardo al welfare è stato il regista dell'operazione concordata tra regione e governo dopo la quale il ministro della salute orazio schillaci ha reso obbligatorio il test per chi arriva dalla cina ho tirato un sospiro di sollievo vedendo i risultati ha detto bertolaso ma dobbiamo tenere alta la guardia continueremo a fare i tamponi a chi arriva e sempre a proposito di sanità questa mattina importante donazione di varese per l'oncologia che ha dato alcune operecchiature per il dei ospital oncologico le parole del presidente carlo lucchina al microfono di barbara zanetti le immagini sono gli agenzia blitz carlo lucchina presidente di varese per l'oncologia ci troviamo villa temanio oggi una donazione importante che in qualche modo chiude un anno dove varese per l'oncologia ha fatto grandi passi avanti nello stare vicino alle persone che soffrono di cosa si tratta e quali sono i progetti è verissimo noi abbiamo regalato anzi donato delle apparecchiature per il dei ospital oncologico apparecchiature che sono state possibili anche grazie a donazione di parenti e amici di una persona scomparsa che è stata curata nel reparto oncologia e di altri donatori oltre che tutti i soci nostri e non soci siamo alla fine di un anno importante abbiamo sviluppato parecchie iniziative è recentissima la notizia di un finanziamento regionale all'azienda s7 laghi per il progetto oncology che ci permette di sviluppare ancora di più tutte queste iniziative questo è importante perché è vero che nel dei ospital nel reparto di oncologia ci sono dei grandissimi professionisti a tutti i livelli è altrettanto vero che le persone che hanno questo tipo di patologia hanno anche necessità di essere un attimino considerate con attenzione nell'aspetto domiciliari di cura e nel loro percorso di cura e possibilmente di guarigione la cronaca a legnano ancora spaccate ai danni delle attività commerciali del centro siamo arrivati a quattro in tre giorni andiamo a sentire luigi crespi nuova spaccata ai danni di un bar del centro di legnano nella serata di giovedì 29 dicembre è toccato alla bottega del caffè di piazza morelli nel complesso delle gallerie cantoni un ragazzo ha sfondato la vetrina usando una piastrella trovata in piazza entrato nel buco creato nella vetrata ha votato la cassa e se l'è data gambe si tratta del quarto colpo simile da martedì 27 dicembre quando in piazza mochetti sono state distrutte le vetrate della libreria nuova terra dell'officina dell'hamburger e del caffè grattacielo anche in questo caso il bottino era stato di pochi spiccioli quello che era stato lasciato nella cassa del bar tra i commercianti di legnano torna il giustificato allarme per una sequenza di colpi che a questo punto comincia a diventare davvero preoccupante ed è proprio di questi ultimi minuti la notizia che i ladri sono tornati a colpire anche al bar grattacielo dove erano già stati martedì sera si sale quindi a 5 nel conteggio delle spaccate questa mattina alle 6 un'auto si è ribaltata sulla superstrada 336 della malpensa 5 le persone che sono state soccorse per fortuna tutte hanno riportato ferite lievi ma per controllo sono comunque state trasportate all'ospedale di gallarate l'incidente è avvenuto in direzione 8 e non ci sono state da talora grande conseguenze per la circolazione stradale all'aloesianum di gallarate sono stati riportati dai carabinieri diversi libri antichi che erano stati trafugati dal collegio vediamo il servizio di veronica deriu preziose cinquecentine volumi unici antichi trattati di medicina latino e francese appartenenti al patrimonio bibliotecario dell'aloesianum di gallarate sono stati restituiti ai gesuiti dei carabinieri della tutela del patrimonio culturale di udine agli ordini del capitano alessandro volpini un'indagine durata due anni ha permesso di restituire 180 libri antichi datati tra il sedicesimo e diciassettesimo secolo al collegio di gallarate il valore di questi volumi varia da mille euro fino ad arrivare a circa 5.000 euro come siano stati trafugati resta un mistero e sono ancora in corso le indagini si ritiene che dopo il furto con il passare del tempo i libri antichi abbiano trovato collocazione in esperti librari e rivenditori specializzate i quali hanno cercato di rivenderli anche attraverso il mercato online così dopo un paziente lavoro tra il 2021 e il 2022 i carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di udine monitorando i canali dell'e-commerce hanno individuato in alcuni negozi specializzati in nord Italia i libri antichi li hanno sequestrati e poi restituiti ai legittimi proprietari raccontata in questi giorni di festa la sua storia ha colpito al cuore gli italiani così in questi ultimi due giorni a ignazio cadoni e alla sua famiglia che vivono in un'auto sono arrivate centinaia e centinaia di offerte case lavori e contributi l'intero paese si è mobilitato per riuscire a togliere dalla strada lui sua moglie e le sue due figlie nella speranza che il terzo bimbo appena nato possa riprendersi presto e raggiungerli nella loro nuova abitazione per la famigliola quella di ieri è stata una giornata speciale perché finalmente ha potuto abbracciare il bimbo nato il 6 dicembre ed allora ricoverato alla macedonia melloni di milano i medici sono ottimisti si spera che presto potrà lasciare l'ospedale ma per andare dove se il padre ha rifiutato per la terza volta la proposta del comune di una soluzione in housing sociale questa volta in due appartamenti distinti ma vicini presto la famiglia cadoni potrebbe avere solo l'imbarazzo della scelta al comune di legnano si sono rivolte almeno tre persone offrendo due abitazioni sfitte a busto arsizio e una nel lazio ma è alla segreteria dell'associazione di volontariato il solo nel cuore che è stato recapitato il grosso delle offerte riassunte in quasi 600 mail arrivate da tutta italia c'è davvero di tutto spiega la presidente valeria vanossi una generosità mai vista c'è un uomo di piacenza che si è offerto di pagare affitto e bollette per un anno intero chi offre una casa spitta chi un lavoro e chi semplicemente vorrebbe mandare dei soldi a questa famiglia al santuario del beato padre luigi monti di saronno sono arrivati oggi i primi pellegrini che hanno percorso il nuovo cammino montiano ce ne parla roberto banti le immagini sono di agenzia blitz avanguardia delle migliaia di pellegrini che dall'anno prossimo anche dall'estero arriveranno a saronno lungo il nuovo cammino montiano è giunta oggi alle 14 all'istituto di padrimonti in via legnani in venti dal varisotto e dall'abrianza hanno aperto la via percorrendo per la prima volta il cammino che collega i luoghi della vita del beato saronnese padre luigi monti il progetto del cammino montiano era stato ufficialmente sancito da un accordo del settembre scorso fra i comuni della zona province di varese monza parco groane parco lura e la congregazione dei concezionisti di padrimonti il cammino è stato dunque inaugurato oggi la partenza dei pellegrini è avvenuta alle nove da cesano maderno lungo i 16 chilometri del cammino hanno visitato la casa natale del beato bovisio masciago e tramite le piste ciclopedonali delle groane sono arrivati allo storico santuario di san damiano fracogliate ceriano laghetto e poi all'istituto monti e santuario del beato a saronno accolti dal superiore saronnese della congregazione padre gianluca ferrara con tappa finale il santuario della beata vergine sempre a saronno bene con questo è tutto non mi resta che darvi appuntamento al primo gennaio alle ore 19 e naturalmente augurarvi una buona fine d'anno e un ottimo inizio buona serata grazie a tutti